Amiche di unghie e questa volta vi porto un unboxing speciale. Come vedete il pacco è di Beauty Space Nails e cosa c'è dentro a questo pacco? Guardate bene, sono delle nail form. Ma cosa hanno di speciale queste nail form? Aspetta, aspetta, eccole qua. Allora, Beauty Space Nails in collaborazione con Amiche di unghie mi ha dato la possibilità di creare delle nail form. Abbiamo studiato per creare queste nail form che hanno delle caratteristiche particolari che ovviamente vi spiegherò adesso nel seguito in questi giorni. Qui vi faccio vedere il bollino che ha un taglio, un pretaglio e guardate bene l'attaccatura, la forma del liponicchio. Sono create per rendere più facile il posizionamento della nail form per unghie senza laterali. Chi mi conosce sa che io ho questo problema e queste nail form sono state fatte su misura per me e per chi ha come me questo problema. Però il bollino ci aiuta a modificare. Vi racconterò tutto quanto durante delle live, durante dei video. Ve le farò vedere meglio per bene e queste sono loro. Arriviamo ad una misura numero 12, sono veramente grandi. Un bacio, grazie a tutte, sono troppo felice. Grazie Beauty Space Nails per avermi dato fiducia.